partite il cavallo del Gino e Luciano Mantovani freccia prova andare in testa esattamente come ha fatto l'esordio qui però trova un po' di opposizione in questa prima parte di corsa piuttosto combattuta visto che all'interno visto che dall'esterno c'è Amalaura che converge sulla stessa freccia le due viaggiano virtualmente a coppia seguite all'interno da Sofibel di fuori invece si mantiene in quota Isarutas in mezzo le cavalle Little Kelly insieme a Desi Degrif a chiudere invece rimane Donna di Stelle con Amalaura che nel frattempo è passata in vantaggio sulla piegata in maniera un pochettino verde ma comunque tiene ancora la leadership nei confronti della favorita freccia che è seconda Sofibel terza in corda su Isarutas che è quarta di fuori poi ancora Little Kelly nei confronti di Donna di Stelle scivola in coda Desi Degrif nel frattempo stiamo entrando in retta d'arrivo con Amalaura che è in vantaggio e va in allungo a traguardo lontano su freccia che è accusato su questa frazione da parte della sua avversaria Isarutas e Little Kelly che provano ad avvicinarsi insieme a Sofibel di fuori a tutti invece c'è Donna di Stelle con Amalaura che è in vantaggio ai 400 su freccia che prova a guadagnare Isarutas al largo di tutti che si avvicina all'interno Little Kelly che scatta poi ancora Sofibel l'attacco di Little Kelly che piombo su Amalaura freccia a centro pista le altre battute con Little Kelly su Amalaura che prova a difendersi Little Kelly che passa su Amalaura nell'ultimo tratto Little Kelly che allunga e batte Amalaura al terzo freccia poi ancora in quarta Donna di Stelle nel finale emersa per andare a svettare in questa listed race ecco qua il fantino di nuovo Federico Bossa sperimenti ancora insomma queste sono belle soddisfazioni Sì direi proprio di sì sono contento per il team ringrazio che mi hanno dato fiducia da più di un anno mi stanno facendo montare tutti i cavalli ci siamo levati questa piccola soddisfazione sono molto contento Senti è stato un bene per te che la corsa sia stata così ad andatura svetta? Sì allora sì c'è stata un'andatura furibonda io infatti con Tiviamo non mi sono subito in difficoltà oggi pensavo che venendo dalla pista dritta fosse un po' più reattiva all'inizio ma è una cavalla che ha bisogno di aggiustarsi farà sicuramente ancora più distanza mi hanno messo appunto un po' in difficoltà in curva però ero convinto bene o male che di andarli a prendere cioè non avrei detto di vincere però poi mi ci sono trovato meglio così però ho detto in fondo qualcosa trovo e la cavalla è venuta su bene sono venuto per via interne ho trovato la favorita davanti ferma e ero battezzato Belle soddisfazioni bravo Federico complimenti complimenti a tutto il team di Little O'Kelly per la vittoria in questo premio Mantovani e Linea che per il momento può tornare alla regia In queste corse ne ha vinte a profusione consegna la coppa un giovane vecchio giocai Federico Bossa complimenti per il successo nel Mantovani con Little O'Kelly chiedo a tutti quanti di avvicinarsi per una foto generale e Linea che torna alla nostra regia grazie